Bravo sei, in silenzio radio. Continueremo a nerdare e giocare in vostra compagnia, vi aspetto così continuiamo, mi sembra che siamo arrivati al livello 64 così si comincia finalmente a fare un road già verso il livello 100 e poi passate ad iscrivervi su Instagram, Telegram e Twitter per tutte le ultime notizie in tempo reale sul mondo di Call of Duty. Oggi giornata changelog ragazzi perché ho una marea di notizie sia per quanto riguarda Call of Duty Mobile sia per quanto riguarda Call of Duty Modern Warfare. Partiamo sempre con il video informativo su Call of Duty Mobile, ieri hanno attivato i doppi punti esperienza per quanto riguarda il multiplayer e la Battle Royale, saranno disponibili anche oggi e termineranno questa sera a mezzanotte, quindi se volete continuare a livellare su Call of Duty Mobile approfittate di oggi. Poi è uscito il changelog di un nuovo aggiornamento che è stato reso disponibile appunto ieri, un aggiornamento ma soprattutto una roadmap di tutto quello che accadrà nel mese di novembre o almeno nella metà del mese. Partiamo subito perché la Tencent e Activision hanno confermato che dal primo di novembre o meglio dal primo novembre in poi continuerà l'evento di Halloween perché sarebbe dovuto terminare il primo di novembre invece hanno detto che continuerà. Ci sarà appunto questo weekend di doppi punti il 2 e il 3 di novembre, poi dall'1 al 7 di novembre ci saranno sfide e la modalità che vi ho fatto vedere in anteprima soltanto con i lanciamissili, dal 4 al 10 ci saranno le sfide dell'evento della Battle Royale, mentre dal 4 all'11 ci sarà l'evento classe Airborne, quindi preparatevi perché domani si attiverà questo evento di cui poi parleremo anche nel video informativo di domani. Ma la cosa che ci interessa di più è relativa appunto a tutto il punto della situazione che ha fatto ieri la Tencent ed Activision. Parliamo innanzitutto del discorso relativo al controller. Avete capito bene, finalmente Activision ha parlato nuovamente sul controller, ecco la sua dichiarazione. Ha parlato non soltanto del ritorno della possibilità di utilizzare il controller, perché vi ricordo che nella beta era possibile, ma ha anche parlato di opzioni di accesso al gioco. Infatti al momento l'unici due modi sono entrare come visitatore o utilizzare l'accesso Facebook, mentre in alcuni stati c'è anche l'accesso Line. Sarebbe carino poter accedere con il proprio account da Activision, così abbiamo tutto quanto nello stesso account, come avviene ad esempio su PS4, su Xbox One e PC per il discorso Modern Warfare. Vorremmo solo dire che entrambi li stiamo ancora lavorando, quindi discorso controller e discorso accesso al gioco. Vi stiamo ascoltando e ci preoccupiamo moltissimo di entrambi gli argomenti, motivo per cui ci stiamo prendendo il tempo per assicurarci che siano entrambi pienamente definiti, equilibrati e pronti prima di annunciare qualcosa. Quindi Activision continua a confermare che troveremo nuovi modi per poter loggarci all'interno del gioco, ma soprattutto ritornerà la possibilità di utilizzare il controller all'interno di Call of Duty Mobile, cosa che era stata annunciata per il lancio del gioco e poi rimossa proprio il giorno di lancio. E quindi sicuramente faranno, come avevo detto nei giorni passati, una sorta di playlist dedicata, o meglio una sorta di stanza soltanto dedicata a coloro che utilizzeranno il controller rispetto a chi utilizza ovviamente il touchscreen. Sempre in merito a Call of Duty Mobile, ha detto che dall'uscita hanno visto molte richieste da parte di tutti quanti della presenza di robot nel multiplayer e della Battle Royale. Hanno detto che hanno aggiunto i bot in Call of Duty Mobile per fornire un modo nuovo per migliorare l'esperienza di gioco dei giocatori, per crescere, imparare e migliorare appunto all'interno del gioco. Forniscono una sfida mentre ci permettono di imparare i dettagli dei livelli, provare nuove build delle armi ed aumentare quindi gradualmente le abilità. I robot non sono presenti nelle partite classificate e in altre modalità man mano che noi cresceremo nelle abilità. Quindi ha detto apprezzeranno molto il nostro feedback in merito appunto al miglioramento anche dei bot all'interno di Call of Duty Mobile. In merito agli imbruglioni, se vogliamo chiamarli così, cioè coloro che utilizzano trucchi all'interno del gioco, continuano a dire che bisognerà mandarli screenshot, video, nome utente ed id se disponibile date ora della segnalazione. Ha detto che loro comunque non banneranno e non vederanno l'accesso automaticamente ai giocatori basandosi su un rapporto, ma indagheranno ed applicheranno le sanzioni migliori in merito a coloro che stanno imbrogliando all'interno del gioco. Inoltre a breve cercheranno di migliorare ancora di più la frequenza dell'aggiornamento del negozio, per avere sempre un negozio sempre più fresco e sempre novità estetiche all'interno del titolo, per avere una varietà di armi ed oggetti con la valuta del gioco e soprattutto ha detto per qualsiasi problema dobbiamo contattare il supporto Activision tramite l'opzione di gioco proprio all'interno del titolo per riuscire ad avere dei feedback in tempo reale sulle correzioni del gioco. Se avete problemi in merito invece al collegamento con Facebook, ha detto spesse volte provate a disinstallare che tutto potrebbe sistemarsi con la nuova interazione con l'applicazione, mentre invece se avete problemi durante l'acquisto di Call of Duty Point o di un oggetto specifico ha detto di assicurarsi che la transazione sia andata a buon fine e soprattutto riavviare il gioco. Passiamo invece adesso a parlare di Call of Duty Modern Warfare perché ci sono anche qui belle notizie. Ieri mattina è arrivato un aggiornamento molto corposo che ha portato il titolo alla versione 1.06 su PS4, Xbox One 1.05 su PC, peso di 7,40 su PC, 1,8 su PS4 e 2,3 per quanto riguarda l'aggiornamento di Xbox One. Aggiornamento che nel fulcro, quindi nella cosa più importante, è andata ad introdurre le playlist notturne, quindi è tornata la modalità notturna e soprattutto inserita o ci sono confermata con l'aggiornamento 1.06. Vi ricordo che ieri vi ho portato un video importantissimo in merito a 38 mappe e codici mappa che sono stati trovate all'interno di questo gioco, ve lo metto in alto a destra, recuperatelo perché è veramente importantissimo e vi faccio vedere anche qualche primo screen e concept art di quelle che saranno alcune delle 38 nuove mappe in arrivo che saranno 6 contro 6, 10 contro 10, alcune saranno gunfight, altre saranno nel discorso relativo a guerra terrestre ed altre anche nei trials, quindi in queste sfide che si devono fare relativamente dopo il livello 56 per i biglietti da visita. Ma andiamo a vedere invece nel dettaglio cosa è stato cambiato perché poi ieri sera intorno all'ora di cena è uscito proprio il changelog relativo all'aggiornamento di ieri mattina. Allora come dicevo aggiunte la modalità notturna ed uccisione confermata. Ora le stordenti possono disabilitare le clamor per 3 secondi, piccolo fix ai passi. Ora la mimetica ora è sbloccabile per la pistola .357, ora è stato inserito il tac equilibrato, non sponerà più fuori dalla mappa. Sono stati fissati alcune crash improvvisi sul gioco su diverse piattaformi. In Grand War i carri armati e i quad non saranno più considerati per quanto riguarda il raggiungimento della medaglietta nucleare. Risolto il bug che permetteva alle armi con ciondoli equipaggiati di avere un'area di sparo più ampia senza mirare. Quel problema che vi dicevo ragazzi che c'era dispersione dei colpi quando utilizzavamo i ciondoli sulle armi, quindi questa cosa è stata sistemata. È stata migliorata la stabilità nel gioco. Sono state rimosse le voci degli operatori nelle modalità ad una vita, ad esempio cerca e distruggi e d'attacco informatico. Questo per quanto riguarda appunto tutto quello che concerne l'aggiornamento 1.06. Ma Infinity Ward inoltre ieri ha aggiunto che in futuro arriveranno degli update per andare a cambiare, ma soprattutto ad introdurre nuove frasi, nuovo parlato degli operatori. Ci sarà un nerf e buff di armi. Vi ricordo che dovrebbe essere atteso già per la prossima settimana. Ci saranno correzioni agli spawn e molto altre ancora, soprattutto una modifica alle Claymore. Molti rumors segnalano che le Claymore saranno depotenziate e soprattutto c'è anche un depotenziamento del fucile a pompa 7.25. Non vedo l'ora di questa novità perché le lobby ragazzi si stanno riempendo di questo fucile a pompa e comincia a essere veramente una cosa vergognosa in game. Ieri sera poi ci sono stati problemi in merito all'accesso a Call of Duty Modern Warfare. Molti lamentavano problemi per quanto riguarda il PSN. Infinity Ward ha ricevuto numerose segnalazioni in merito alle schermate che si presentavano quando accedevamo al gioco. Infatti c'era scritto MV Scambio in Corso. La colpa sarebbe stata in merito appunto al PSN che era offline. Però più tardi, intorno alle ore 8, tutti i problemi sono stati risolti e i servizi di rete sono tornati operativi. Se continuate ad avere problemi all'interno del gioco fatemelo sapere che tornerò con un video dedicato. Altra cosa molto importante ragazzi, se utilizzate l'app Call of Duty Companion App, l'app dedicata appunto a Call of Duty dove si possono creare appunto le squadre, si possono vedere le statistiche del proprio profilo e quant'altro, approfittate dell'applicazione di Call of Duty Companion App perché hanno inserito anche le ricompense all'interno di Call of Duty Modern Warfare. Avete capito bene perché hanno inserito per il titolo i doppi punti esperienza se ci piazziamo tra i primi tre nella classifica della nostra squadra per vincere appunto questa ricompensa. E la quota minima è richiesta come obiettivo, cosa veramente molto interessante perché ci daranno una sorta di esclusiva ricompensa di cui però non si parla e 30 minuti di doppi punti. Secondo me è un'iniziativa molto ma molto carina per andare anche a livellare e a giocare il più possibile con la propria squadra all'interno dell'applicazione e soprattutto utilizzarla per vedere le proprie statistiche perché è molto carina perché va ad implementare anche il discorso della caserma, le missioni, la squad, al momento sono previste se non ricordo male 20 membri per creare la propria squadra. Tra breve ragazzi vi faremo sapere, creeremo anche delle squadre dedicate all'interno della Call of Duty Companion App così livelleremo e otterremo anche un sacco di ricompense tutti noi della community. Questo era tutto quello che vi volevo dire in questo bello e corposo video informativo di news per il mondo di Call of Duty. Vi aspetto alle 9 per giocare insieme su Call of Duty Modern Warfare e poi ricordatevi di iscrivervi su Telegram, Instagram e Twitter per non perdere nessuna notizia sul mondo di Call of Duty. Qui sotto nei commenti fatemi sapere come sempre che cosa ne pensai del titolo, quali problemi riscontrati, cosa vorreste che venisse modificato e noi ci vediamo ad un prossimo video.